Siamo per l'ultimo video, le gare sono terminate, alle mie spalle c'è un momento di gioco, di divertimento perché oggi le atlete sono state piccole e tra poco anche le ultime premiazioni, credo, giusto? Invece adesso per un saluto al volo vorrei qua vicino a me una persona eccezionale, Filippo Magnani. Grazie. Filippo, ciao, benvenuto. Grazie mille, grazie mille a tutti. Filippo Magnani è patrone della Gran Fondo Squali, come sapete, ma dov'è Pasqualo? Scusa, l'avete visto? Ecco la rossa, Masqualo. Pasqualo, hai visto che è venuto? Sì, hai visto? Innanzitutto grazie mille per l'invito, è un onore per me essere qua, mi fa estremamente piacere, gioia infinita, partecipare e essere qua in una manifestazione bellissima che è stata organizzata dall'Atletica 75 di Cattolica in questo weekend splendido, ricco di movimento, di gente, di tanto sport, divertimento e turismo. È questo che serve per Cattolica, una sinergia importante tra il ciclismo, Gran Fondo degli Squali di maggio e Atletica 75 di Cattolica con questo evento a giugno. Convisto nazionale anche, ricordiamolo, quindi una sinergia e quindi due sport che si uniscono. Assolutamente. Ricordiamo che Gran Fondo Squali ha prestato la sua mascotte Pasqualo proprio per i campionati gaffe di quest'anno. Assolutamente, ma Pasqualo è internazionale, quindi... Un ciclista, un nuotatore e da oggi anche un ginnasta. Anche un ginnasta e quindi è bellissima questa cosa e per il turismo, per lo sport, per il divertimento, per il piacere è una sinergia importantissima. Infatti tante atlete, tante famiglie abbiamo visto e questo comunque qui con l'ospitalità della Romagna sicuramente si è trovata molto bene. Quindi io Filippo ti ringrazio molto. Grazie a voi dell'invito. Ti lascio andare ai tuoi mille anteimpegni. Però l'ultima domanda, in descrizione ce la devo dare, la Gran Fondo 2019, Gran Fondo Squali 2019? Stiamo già lavorando perché era un evento ancora più grande, l'anno scorso è venuto Vincenzo Nibale numero uno del ciclismo italiano, vedremo, non vi svelò niente, deve crescere come ogni evento che porta a turismo, sport, divertimento, deve crescere anno per anno. Vi dico solo la data, 10, 11 e 12 maggio 2019. E per forza ci ripetiamo, grazie mille, grazie Filippo. Ciao Pasqualo, ciao a tutti. Grazie. Bene, allora io insieme a Pasqualo vi saluto, vi ringrazio di averci seguito così numerosi in tutte le nostre dirette, sempre qui dal Palazzetto dello Sport di Cattolica, vi ringrazio Tredica 75, vi ringrazio Luisto Nazionale che ci ha voluto, ci ha accompagnato in queste giornate e ci rivediamo ai prossimi campionati. Grazie, ciao a tutti.